Ho provato a ripostare un racconto di Dino Buzzati. Ne avevo letti molti racconti di Dino Buzzati. Mi ero quasi proposto di fare la lettura integrale dei racconti di Buzzati che trovo tutti molto belli e molto importanti. Poi li ho dovuti rimuovere. Spero di non violare, insomma, diritti particolari. Se ripresento questo racconto, che peraltro è breve, insomma, sono meno di dieci minuti e che trovo direttamente in rete, insomma, quindi se qualcuno ha autorizzato la pubblicazione in rete vuol dire che si può usare, insomma, come lo ascoltate qua, lo potete trovare liberamente sfogliando le pagine di Google. Ripropongo in una lettura nuova questo racconto, Le mura di Anangur di Dino Buzzati, figura alla quale sono anche affezionato, perché poi durante i lunghi anni di lavoro a Belluno tutti i giorni passavo davanti alla villa che aveva e quindi, insomma, Buzzati è una figura centrale. Poi, insomma, i miei amici hanno anche fatto, mi pare, intorno agli anni, fine agli anni Ottanta, insomma, un lungometraggio sui miracoli di Val Morel a Limana, il suo paese, tra l'altro, dove ho abitato. Lavoro che poi, però, non sono più riuscito a trovare in rete, ma anche loro sicuramente avranno, solo che li ho persi di vista. E quindi Buzzati, insomma, Buzzati che poi ha scelto, no, dopo la sua morte, di far disperdere le sue ceneri sulle Dolomiti Bellunesi. Segno, insomma, anche dell'amore che aveva per questa terra d'origine, insomma, e per la montagna. Però le mura di Annagur si portano in un altro ambiente, ci portano nel deserto, in un deserto immaginario, insomma, no? Come luogo poi a cui era anche affezionato, prendiamo il deserto dei Tartari, no? E forse non a caso il deserto. Un deserto è anche una situazione esistenziale dell'uomo, no? Che vive in un deserto, in un deserto nel quale, che si aspetta di attraversare, insomma, attraverso il quale spera di giungere da qualche parte. La vita è un deserto e la speranza lo porta a un luogo, insomma, a un'oasi, a un qualcosa che sia diverso dal deserto, che dia un senso diverso, che crei un'aspettativa, che succeda qualcosa in questa vita dove apparentemente non succede niente, ma dove tante cose importanti succedono e tutte queste cose importanti spesso non le riconosciamo, non le sappiamo vedere nel momento in cui accadono, salvo poi a percepire che le abbiamo perdute, che non ci si ripresenteranno più, perché siamo tutti tesi a un luogo altro, a un'altrove dove arrivare e dove magari vediamo la felicità o quello che ci immaginiamo come felicità e per arrivare in questo luogo di felicità attraversiamo questo deserto in cui invece succedono delle cose ma non ci accorgiamo che succedono e a questo luogo di felicità probabilmente non arriviamo mai ma viviamo nell'attesa e allora questa attesa è, diciamo, uno dei momenti fondamentali della vita dell'uomo, insomma, l'attesa di un qualcosa che ci porti fuori da questo deserto ma in questa attesa consumiamo tutto il meglio che potremmo invece trovare nella nostra vita e forse questo è uno dei temi principali della poetica di Bucciati e nelle mura di Anangur vediamo questo, insomma, no, troviamo questa grandiosa metafora, secondo me, insomma, della vita che possiamo interpretare in tanti modi quello che per esempio per primo vi viene in mente che forse si può adattare di più perché più particolari coincidono, no? è l'attesa di Dio di un qualcosa che, già, di una felicità proiettata in un altrove, cioè dopo la morte cioè nella felicità della vita eterna, diciamo così, no? E allora le mura di Anangur questo deserto, questa città circondata da enormi mura dove non sappiamo cosa ci sia dentro, no? ci immaginiamo che ci possa essere qualcosa perché forse qualche segnale l'abbiamo avuto ogni tanto c'è qualche spiraglio di fumo che esce e ci sono questi due personaggi, insomma, no? l'io narrante è colui che ragiona, che si interroga che guarda con il criterio della realtà e poi c'è chi l'accompagna, insomma, che invece è più è più portato a credere a pensare che questa città che secondo lui esiste tanto che si vedono le mura però non è segnata nelle carte quindi, insomma, al principio della realtà nelle carte non si vede quindi secondo il criterio del geografo questa città non esiste ma viaggiano e trovano le mure però non vedono la città vedono solo quello che c'è fuori l'immagine della città e vedono un'altra cosa vedono tutta una serie di persone di pellegrini di persone di vari seti sociali quindi dai più poveri ai più ricchi, insomma tanta massa di popolazioni diverse dal povero al principe accampati che aspettano e da anni stanno fuori le mura di questa città aspettando di entrare perché dentro c'è l'immaginario c'è quello che si immagina c'è il sogno c'è l'idea della felicità lì dentro devono essere felici si pensa visto che nessuno esce visto che quindi se nessuno esce vuol dire che dentro stanno bene, no? e ogni tanto esce qualche piccolo spiraglio di fumo, no? e allora qualcuno l'avrà prodotto si chiede lì a un narrante, no? quello che anche lui va e osserva e vorrebbe entrare vorrebbe entrare per vedere per constatare di persona, no? la ragione, insomma, no? verificare e però, insomma, gli viene detto che sì, ci sono tante porte in questa città ma queste porte sono talmente distanti tra di loro che, insomma, chi sta da una porta chi sta in attesa in una porta non vede quello che succede nell'altra porta e allora quando si aprono queste porte? quando è che è possibile entrare? la ragione ti chiede beh, se sono delle porte vuol dire che si può entrare, no? e però queste porte non si aprono e non si sa quando si aprono però qualche volta è stato detto che si sono aperte ma anche qua non si sa quando si sono aperte e non si ha voce di chi si è entrato che racconti come si sono aperte cosa c'è stato al di là cosa ha trovato continua il mistero, no? la ragione porta a interrogarsi insomma, no? chi è che può fare quel fuoco perché effettivamente sono felici quelli che sono dentro è una cosa casuale, no? eccetera insomma, si vorrebbero delle testimonianze ma queste testimonianze non ci sono c'è però una specie di di mito, no? di riferimento uno una volta è entrato e che è entrato? è entrato uno di quelli che aspettavano, eccetera e poi è uscito ha raccontato ha detto no è entrato uno che per caso passava davanti a una di quelle porte e questa porta in quel momento si è aperta allora la ragione chiede ma quando è stata aperta? insomma, un anno fa? due anni fa? no? sembra che sia stata aperta 300 anni fa sembra non si sa e quindi il mistero continua si continua a non sapere cosa c'è dietro queste mura altissime in questa città nel deserto ed è quello che succede un po' nella nella religione no? nel in questa attesa di Dio no? cioè questa vita consumata fatta spesso di di rinunce in attesa di qualcosa di più grande di una felicità eterna insomma di questa città ideale in cui tutto sembra essere felice in cui si aspira ad entrare ma queste porte non si aprono nel senso che questa gente è continuamente in attesa di entrare e chi entra chi magari entrerà magari dopo la morte però non è in grado a sua volta poi di raccontare cosa ha trovato al di là e continuamente si percepiscono dei segnali possiamo vedere non so i miracoli certe cose ma di cui poi non si ha certezza se si valuta alla luce della ragione questi segnali sono sempre discutibili non si è mai certi non c'è mai la certezza di questa cosa quello che vediamo sono le mura insomma quello che ci raccontano quello che ci viene detto come ci viene descritta questa città ideale questo mondo dell'aldilà per esempio ma ma non abbiamo mai avuto la possibilità di verificarlo di segnarlo nelle carte geografiche di trovarlo di localizzarlo nei cieli negli abissi dove dove sta e cosa c'è effettivamente in questa città ideale ecco però noi siamo continuamente in attesa di entrare tutti sono un po' in attesa di entrare molti insomma soprattutto quelli che hanno fede ma quelli che non hanno fede sono anche loro in attesa di entrare in un luogo che magari non è il luogo dell'eternità del paradiso che so io ma è un luogo di come dire dove poter trovare la felicità insomma in attesa di un luogo altro rispetto a quello in cui vivono la loro quotidianità perché quel luogo altro spesso dà senso a quello che vivono quotidianamente si vive una vita di dolore eccetera si spera in una vita che sia sempre migliore si cerca sempre qualcosa più in là ma questo qualcosa più in là spesso lo si intravede ma non lo si vede mai non lo si verifica mai non c'è mai il momento in cui possiamo dire siamo entrati in questo luogo siamo entrati in questa città e finalmente vediamo e capiamo il bello dell'esistenza siamo sempre sulle mura che attendiamo tutti quanti insomma dal più misero al più ricco nonostante la ricchezza anche lui è in attesa del luogo dove la felicità sia reale di questa città non solo delle mura ma di quello che c'è dentro le mura e quindi è una condizione esistenziale insomma io trovo che è una grande metafora per esprimere questa l'essenza insomma dell'esistenza umana dell'esistere qui sulla terra sempre aspirando a qualcosa di più di diverso a un luogo dove questa caducità questa instabilità diventi invece un luogo di 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 certezza un luogo dove stare dove consistere e e però questo luogo non si trova mai insomma no ma non si vuole perderlo di vista ci si accampa ci si rimane tutta la vita accampati qui davanti l'accostamento più semplice che viene da fare è quello con con il breve racconto di Kafka no davanti alla legge di questo uomo che che attende davanti alla porta della legge custodita da questo guardiano lo troverete insomma se guardate anche nei miei video insomma e è anche come prologo l'ho messo al processo di Kafka alla lettura integrale che ne ho fatto di questo stare ad aspettare che questa porta si apra ma non si sa se questa porta si aprirà e non ci sarà non c'è certezza che poi al di là di quella porta si possa accedere alla legge ma anche alla legge nella sua accezione migliore dovrebbe essere un luogo di felicità perché la felicità non può prescindere per l'umanità dalla giustizia no la giustizia è diciamo uno dei luoghi dove si dovrebbe realizzare la la felicità ma la giustizia è talmente incerta è talmente manipolata è talmente un luogo un luogo presunto ma dove non c'è certezza che l'entrare l'entrata è continuamente guardata da tanti guardiani diversi superato uno se ne troverebbe sicuramente un altro e si rischia di rimanere schiacciati invece che liberati ma il personaggio kafkiano è lì i nostri vicini che si fanno sentire ma il nostro personaggio kafkiano il nostro è lì davanti al guardiano che un certo momento lo fa anche il sedere in attesa che questa porta si apre e allora l'attesa l'attesa diventa il momento il momento importante insomma no nella poetica di Buzzati l'attesa ma finché aspettiamo e siamo lì che aspettiamo una cosa importante che ci dovrebbe risolvere poi insomma no che potrebbe dare senso alla nostra vita risolvere problemi contingenti farsi felici pensiamo così ma finché siamo lì la vita non si ferma la vita scorre e nello scorrere della vita perdiamo le occasioni che la vita ci offre continuamente no siamo sempre protesi in un in un altrove ma le occasioni si presentano e spesso sono come dire non sono occasioni di felicità sono situazioni in cui come dire non facciamo la nostra parte nella vita non ci accorgiamo per esempio degli altri non ci accorgiamo che gli altri hanno bisogno di noi e quindi non lo riusciamo a dare quello che potremmo dare agli altri trascuriamo queste cose che sono poi i momenti in cui effettivamente si potremmo realizzare no e allora ci sono le occasioni perdute altro breve racconto che vi posto adesso no le occasioni perdute da questo bagaglio di cose che che non abbiamo fatto di cui non ci siamo accorti il fratello che aveva bisogno di noi il cane che moriva di fame perché noi non c'eravamo oppure in un altro racconto direttissimo la madre che lì che aspetta questo treno da da tanto tempo e questo figlio e l'incontro col figlio e però poi il figlio quando arriva è impegnato in un altro ove a fretta deve partire subito insomma no deve lasciare questa madre così com'è e quindi le occasioni perdute occasioni perdute in cui di cui magari arriva un momento e ci accorgiamo che che le abbiamo perdute e vorremmo recuperarle no vorremmo vorremmo esserci allora capiamo che ci dovevamo essere che abbiamo perso qualcosa e vorremmo recuperarle no come recuperare questa queste casse che vengono gettate nel burrone nel racconto che seguirà e però è troppo tardi cioè quando ci accorgiamo ecco un altro motivo no della poetica di Buzzati quando quando ci accorgiamo di quello che abbiamo perso è sempre troppo tardi non riusciamo più a farci niente noi abbiamo perso la nostra vita ad aspettare e quello che avremmo trovato e quello che avremmo potuto utilizzare per dare senso alla nostra vita e per star meglio con gli altri invece l'abbiamo sprecato in questa attesa attesa no che troviamo anche nel deserto dei tartari ovviamente e e poi e poi quando quando ci rendiamo conto è troppo tardi e e arriva la morte e la morte spesso poi è è in solitudine no perché tutto questo non fa altro che accentuare è la nostra solitudine esistenziale insomma dalla quale non non si riesce ad uscire no questa questa incommunicabilità allora se andiamo a vedere e a cercare la descrizione di un altro luogo di di solitudine oppure di come quest'uomo vive questa solitudine questa impossibilità a comunicare effettivamente sotto un altro punto di vista con un'altra modalità di di narrazione andiamo a vedere il racconto di di Mopassant solitudine ecco anche lì abbiamo l'idea insomma no di come di come l'uomo in realtà sia sia un'isola insomma in questo deserto in questo mare le mura della città di Anangur ci danno un'idea insomma un'idea con questa bellissima metafora della condizione esistenziale forse irrimediabile in cui come uomini siamo spessi siamo spesso condotti a vivere no e forse anche finché finché siamo qua finché siamo qua magari davanti al computer davanti a facebook o davanti a queste cose qua e cerchiamo una una comunicazione virtuale ci dimentichiamo che ci sono persone reali cose vere che potremmo fare dedicare un tempo nostro ad altri che avrebbero bisogno anche del nostro tempo e che ci chiedono ma magari non hanno il coraggio e sono anche loro oppure non individuano la necessità non hanno coscienza della necessità e sono anche loro davanti davanti allo schermo davanti al computer su facebook ad aspettare una loro felicità no come come questi che attendono davanti alle mura di Anangur in realtà sono là in attesa ma non trovano neanche il modo di comunicare tra loro insomma nel frattempo finché stanno là potrebbero almeno parlarsi trovare un modo diverso di stare insieme e invece sono solo tutti insieme e aspettano che una porta si apre e questa porta chissà se si aprirà mai se questo luogo in cui individuiamo la felicità darà accesso a qualcuno e se darà accesso a qualcuno lo farà sicuramente per caso e non sapremo quando quando sarà perché sarà e come sarà questa è un po' insomma la la metafora la la visione pessimistica forse insomma che ci che ci offre buzzati ma che ci aiuta molto a leggere la condizione esistenziale dell'uomo una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti